Ciao ragazze, ciao, finalmente ci presentiamo, allora abbiamo pensato di fare questo video un po' per presentarci, certo, allora abbiamo 28 anni, siamo di Salerno, la porta magicamente si è fatta, c'è qualcuno, c'è il fantasmino, mi tocca i capelli continuamente, ma ho fatto lo shampoo, li ho asciugati così, fa un caldo boia, infatti dovremmo andare un po' a male perché siamo bianchissime, allora spieghiamo anche questa cosa, noi lavoriamo, faccio ricostruzione, io guardo te, non so chi guardare, si vede che non siamo abituate a stare avanti una telecamera, però avete pazienza, mi occupo di ricostruzione unghie, tutto ciò che riguarda le unghie, io faccio la makeup artist, quindi trucco, adoriamo quello che facciamo, è il nostro sogno da bambine, la nostra passione, in qualche parte ci sono riuscite, infatti, volevo dire, una cosa importante, visto che passeggiando abbiamo guardato Instagram e ci siamo accorti che abbiamo quasi mille seguaci, 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 siamo in giù, siamo in giù, quindi ci sta, quasi mille seguaci, abbiamo pensato di fare un giveaway, pensierini ragazze, perché è il nostro primo giveaway, vabbè, facciamo vedere che cosa abbiamo preso, ok, questa è la bustina, comincio io che ho beccato questi per prima, aspetta, abbiamo il telecomandino, adesso ci giochiamo, quindi, cara, ingrandisci su queste stelline, magnifica, aspetta, dove sono, eccomi qua, perfette, si vede? Si, ma che meraviglia, allora, si vedete, sono stelline viola, applicazioni per le unghie, come vedete, un colore che va bene per tutto l'anno, e poi, ho preso questo, Ale se vuoi, zoomare, anche te, uuuuh, me ero, eh, sapica, si, ok, facciamo vedere, scusate ma abbiamo una luce che, un po' furtua, allora, questo è un pennello da blush, è il classico pennello da blush, è da contouring, io lo uso spessissimo su di me, su altre persone, perché è morbidissimo, non perde neanche una setola, è molto carino, ok, poi, 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 faccio io, guarda, ho prendo questo, te la fai? No, nel senso, ok, vado io, zoom, ma cara, per favore, allora, ho preso queste applicazioni per le unghie, questa è, uh, sbagliato, allora, questo è smalto, smalto adesivo, articolare, dai, vedete, tutte queste sfumature di colori, e queste, sono roselline, sempre applicazioni adesive per le unghie, roselline e farfalline, ecco qua, mamma mia, sono in imbarazzo, tu, vedi io, questo è vero, scusateci, infatti, poi, man mano, poi ho preso queste ciglia finte, ah, sì, scusa, io sempre, tu, mia cognata, non mi piace, non mi piace, ma mai, non se la vedano, eccole qui, effetto molto naturale, perché preferisco così, almeno, come il primo regalino, le uso spesso anch'io, non ce l'ho in questo momento, non ce le ho proprio le ciglia finte ora, e poi, poi, zoom, ultimo regalino, penso che non si vede bene, ora ve lo faccio dalla confezione, vengo male di mare, avanti e indietro, e questo piega ciglia, si si vede, si si vede, rosa, classico, ah, poi ragazze, allora, io ho comprato questa collana, carina, abbiamo pensato di prenderne un'altra, a parte che la comprato anche Anna, però di aggiungerla al giveaway, allora, ragazze, sono veramente cose che, sciocchezze, sì, l'abbiamo presa al negozietto, qui sotto, quindi non aspettatevi, chissà cosa, però l'abbiamo pensato, penso che questo sia importante, perché l'abbiamo fatto con il cuore, davvero, non lo so, ragazze, se volete sapere qualcosa di noi, scrivetelo, comunque ragazze, tutte le informazioni del giveaway, le lasciamo nell'info box, regole semplicissime, niente super iscrizioni, gira questo, fai questo, ragazze, quando vediamo questi giveaway, così complicati noi non partecipiamo, non partecipiamo, non partecipiamo, non partecipiamo mai, perché si scoccia in una maniera finita, e questo è tutto, ragazze, alla prossima, ciao, ok.